Signori, siccome fino ad ora vi ho mostrato in gran parte palazzi e cemento, vi porto oggi in un luogo molto tranquillo. Prendendo la trafficata Nankai Line, arriviamo nella parte meridionale della città per visitare il Sumiyoshi Taisha. Questo è uno dei pochi luoghi in Giappone dove esistono e passano i tram. Il Sumiyoshi Taisha è un grande complesso templare, uno dei più antichi, fondato nel III secolo, ancora prima dell'introduzione del buddismo. All'ingresso dell'area principale c'è il bellissimo ponte Sorihashi che crea un pittoresco arco sullo stagno sottostante. Durante Hatsumode, che è la prima visita dell'anno, chiamiamo quella scaramantica, questo luogo è assalito dalla gente. I vari tempi sono dedicati ai protettori dei viaggiatori, dei pescatori e dei marinai. Ma le parole non servono più a nulla. Sentiamo invece la bellezza del silenzio. Grazie. 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 Grazie.